Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Disagi sulla A1 dove per traffico congestionato 6 km di coda in diminuzione tra Monte San Savino e Val d'Arno e per traffico intenso code a tratti tra Firenze Sud e Barberino. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla FIPILI code a tratti tra Lastra Segna e Firenze Scandicci in direzione Firenze, code in uscita a Lastra e in direzione Mare. Sull'accordo autostradale Siena a Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei riadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonsi e Tavarnelle. La viabilità cittadina a Firenze per lavori restringimenti di carreggiata in Viale Etruria e in Viale Piombino. Puoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.